La mia esperienza di allattamento è stata un'esperienza fondativa. È la fondazione di una relazione molto bella, autentica e duratura con il proprio figlio, ma anche con la propria interiorità e quindi con la propria maternità. L'allattamento è molto importante perché i bimbi si devono nutrire. Io sono stato allattato per tre anni. Era come una felicità che si ammocchiava. È molto importante che la madre sta più vicino al figlio. Credo che allattare sia naturale, che i bambini lo fanno naturalmente, le mamme no, e quindi bisognerebbe tornare un attimo alla semplicità di un gesto che può caratterizzare un'intera vita. Il seno è fatto da tante palline, dentro una palla più grande. È praticamente un ingorgo di palline. E dentro queste palline ci sono tantissimi, migliardi e migliardi e migliardi di cellule. E fa diventare una cosa il latte. Dopo se ne ritorna al seno e il bambino se lo beve. È un ciclo della vita, praticamente. Vi lascio ancora le mammelle per aria, che sono veramente lo spettacolo della natura, nonostante l'abbia creato l'uomo, che quando si mette a contatto con la natura riesce a fare le cose più belle. Ricordo alle mamme il futuro, che non è bello dare il latte con i biberoni, ma è meglio darlo con il seno. Perché i biberoni di plastica inquinano.